caro gitarnauta buongiorno oggi ti vorrei parlare di orecchio e ear training te ne vorrei parlare perché la sensazione spesso è che ci si dimentichi che la musica e quindi anche la chitarra è un qualcosa che deve passare fondamentalmente attraverso le orecchie cioè si presta molta attenzione al movimento delle mani a imparare le varie tecniche manualmente e si tralascia completamente la questione dell'orecchio la verità è che poi le persone sono anche spesso consapevoli delle proprie lacune infatti quando io chiedo ai miei allievi ma su che cosa ti senti di dover migliorare quali sono le tue le lacune che tu rivedi su te stesso tantissimi direi oserei dire tutte le persone dichiarano di sentire delle lacune dal punto di vista dell'orecchio e allora è il caso di mettere una toppa come si fa innanzitutto ci sono diverse aree da sviluppare cioè dividiamo in maniera schematica così c'è una prima capacità legata al distinguere le altezze delle note cioè ad esempio date due note capire qual è quella più acuta e quella più grave ecco potrebbe sembrarti una cosa molto molto banale molto semplice ma se non hai mai provato è tutt'altro che scontata quindi inizialmente con delle note con ampi margini cioè una nota molto acuta e una molto grave e poi via via su intervalli più stretti fino a riconoscere qual è la nota più acuta quella più grave anche tra note molto vicine a distanze di semitoni o di tono e dopo riconoscere gli andamenti cioè per esempio quando una certa sequenza melodica sale quando scende questo per esempio è un esercizio che potresti farti anche in macchina mentre ascolti la musica sentita una melodia capire quando sta scendendo quando sta salendo quali sono i moti su cui si muove va bene quindi questa potrebbe essere una prima area di sviluppo una seconda area di sviluppo invece è la scala maggiore o comunque le scale e quindi saper riconoscere le note all'interno della della scala questo è un tipo di studio più classico se vogliamo cioè data la tonica di una scala fatta sentire un'altra nota x riconoscere individuare quale nota è rappresenta e successivamente la ricostruzione di melodie cioè sentiamo questa melodia riusciamo a ricostruirla ritrovarla sulla chitarra o a ricantarla ecco riguardo al discorso cantare attenzione che anche se non vuoi diventare un cantante il rapporto tra voce orecchio è inscindibile quindi io ti consiglio di imparare da subito a cantare quello che fai tutto quello che fai può essere cantato ricordati che con la chitarra se una cosa la sai cantare la sai anche suonare va bene se non sei in grado di cantare una certa cosa potrai suonarla ma è un riprodurre meccanicamente quella cosa non l'hai davvero interiorizzata quindi cerca da subito di mettere in moto la tua voce se non ci hai mai provato perché risulta molto utile l'ultima area cioè l'ultima una terza possibile area di sviluppo è quella sugli accordi quindi riconoscere un accordo maggiore da uno minore riconoscere la tonica all'interno dell'accordo saper riconoscere la qualità delle settime questo man mano che il lavoro si fa più avanti io direi che per un principiante le capacità potrebbero anche fermarsi qui o meglio le capacità indispensabili sono queste poi è evidente che sviluppando ancora ulteriormente si può sfociare nell'armonia quindi cominciare a riconoscere orecchio i moti degli accordi cominciare a saper fare delle analisi armoniche fatte ad orecchio ma per quanto riguarda le conoscenze indispensabili io direi questo nozioni basilari in termini di altezza delle note scale e accordi io nella fattispecie ho sviluppato un mini metodo proprio su queste tre aree un mini metodo di orecchio come al solito circoscritto che ti porta da un punto di partenza che in questo caso è lo zero e ti fa arrivare a un livello appunto in cui avrai colmato queste capacità ti faccio vedere alcuni estratti da questo metodo buona visione questa è una sequenza completamente ascendente vediamo la prossima ecco questa per esempio prima scende e poi sale eventualmente riascolta più volte l'esercizio anche a fronte poi delle soluzioni quindi qui semplicemente devi descrivere il grafico l'andamento della melodia va bene l'ultimo esercizio di questo modulo riguarda l'accordatura capacità di orecchio che spesso viene trascurata nei metodi di air training e io invece l'ho voluta inserire sentirai delle coppie di note di cui la prima è la corda accordata correttamente la seconda è invece la stessa corda ma forse scordata questi esercizi sono tutti sulla corda la quelli che stiamo sentendo adesso poi tu li troverai su tutte le corde ecco qui c'è una calanza evidente la seconda nota è più bassa della prima ok prendiamo ad esempio il caso di fra martino che è la prima melodia proposta c'è prima la melodia integrale che è questa senti ok vado a ricostruirmi tutta la melodia mi raccomando muoviti proprio in orizzontale sulla scala che ti ho fatto vedere poco fa come se fosse un pianoforte diciamo devi ricostruire la melodia e se fai fatica con la melodia integrale vai a prendere i file con i piccoli pezzettini rallentati esempio questa è la prima frase senti distingue raccordi maggiori e minori ma sentendo entrambi i suoni cioè ci sono due possibilità o da maggiore a minore o da minore a maggiore questa è una sequenza discendente quindi da maggiore a minore sentiamo il prossimo questo invece da minore a maggiore quindi ascendente ecco hai visto quindi alcuni esercizi estratti dal mio metodo di ear training io ti invito a valutare di intraprendere questo percorso perché più procedi a suonare senza occuparti del tuo orecchio più diventa tardi diventa difficile poi successivamente intervenire quindi metti in moto le orecchie buon orecchio e a presto